Ibiza è una vettura speciale perché ha sempre rappresentato un modo dinamico e giovane di muoversi in Europa e specialmente nei paesi del Mediterraneo. Il significato dell'Ibiza per la brand è chiaro. La proporzione dell'Ibiza è il forte dell'architettura, questa ampie vetrate, questa linea semplice ma soprattutto la caratteristica fondamentale è questo sportello che si nasconde nelle linee di fiancata. Ovviamente si vede il taglio per poter avere questo sportello. Ibiza 2 coglie quella che è l'evoluzione tecnologica, quindi c'è di appropriarsi della possibilità di modellare in modo diverso utilizzando tutte le caratteristiche tecnologiche che oggi o allora si potevano sfruttare. Rappresenta in modo concreto il desiderio di molti ragazzi di avere una vettura sportiva e nello stesso tempo funzionare. L'Ibiza rappresenta il cuore di questo brand. Dall'Ibiza partono tutti i modelli, dal linguaggio estetico e anche dal linguaggio di prodotto. Dall'Ibiza partono molto più importanti. Ci sono un grande grande sentimento di classica nel DNA del dei Ibizzi di oggi perché comincia con le proporzioni, una piccola scelta, le ruote alle tre, le ruote alle raffine, la raffine delle massi, le muscoli sulle sulle ruote. E questa ricerca molto semplice è una parte della tradizione e continua a continuare senza essere un prodotto tradizionale. Il successo dell'Ibiza viene dal suo concetto, dal suo DNA. È un caro che è molto buono, con un certo livello di sportività, senza essere aggressivo. È un design molto semplice, tutti possono capire cosa è l'Ibiza. Ha una buona qualità. È un caro che è designato per qualcuno che non ha bisogno di renunciare a nulla. Ha tutto, il tutto è pieno. Felicidades, Ibiza. 30 anni. È bello poter fare gli auguri a un prodotto che ha già 30 anni. Quindi io sono sorpreso ma felice di poter fare questo augurio. Buon compleanno. Buon anniversario, buon compleanno. È un compleanno molto importante. Sono poche le automobili che hanno una storia così lunga.